Salve Eccoci su Biomutant Andando in una strada Per Andando in una strada Per In direzione Diciamo di un Di un avamposto Mi sono imbattuto In In un passaggio Qui E Devo capire Un attimo Cosa Ci devo fare Il senso Me lo sto esplorando Molto gioiosamente Mi sto esplorando Sto posto Bene Così Perché è carino Tant'altro vedo Ok Ah Ma qua è dove Ci sono arrivato Grazie a lì Eh Ma Faccio così Faccio così Non c'è nient'altro Vedi E non c'è nient'altro Qua allora Pensavo Per essere sincero Sono un po' deluso Pensavo che stessi Per esplorare una cosa particolare Invece no Sto semplicemente Semplicemente Ok Ok Semplicemente Mi ritrovo In una Zona Un po' così Non c'ho neanche trovato niente L'alba è il momento migliore Per iniziare la giornata Sì ma sono Sellefogne Chi la vede l'alba Scusami eh Non te la prendo a male Ma E ne sono Ci sono rimasto un po' male Perché va Lo giro Non faccio niente Quindi E niente E niente signori Allora Si torna indietro E riprendiamo la strada No Riprendiamo la strada Verso Verso quello che devo fare Insomma Vabbè Allora Porca Aspetta Porca Porca Miseria Scusa Io adesso Come dovrei andarmene Però Come Dovrei andarmene Perché qua Ho visto Ste cose Però Allora La porta Lì Qua Non Non si fa Niente Qua Non si fa Niente Questo L'ho Già Fatto Visto Ok Ah ok Eh perché facendo qua Andando qua Il cielo si sta facendo più grigio Sempre più luminoso Eh ho capito Sempre più luminoso Ma io non sto Trovando la strada Scusa Mi sa che è meglio Come è possibile usare lo spostamento rapido Sono bloccato qui Ah 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 Io non c'è Mi son perso qualcosa Mi sono Colge Sto esplorando Sto esplorando l'area Sì io sto Sto Stare anche esplorando Ma Non Sto trovando niente Mi sto Cioè sto Restando bloccato qua Spero di no Cioè Ecco Ok Ok Ah Ma io sto scemo Io questo Non lo vedevo Vabbè Ok Eccolo Ah Ok Nivello 13 Ah Ah Questi sono Ah 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 Ok Ehi cacca Ah 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 Aspetta Poi è meglio È meglio Ah Ah Ok Alla 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 A livello 12 Sono Sono un po' più forti Di questi A livello di Ok Ah Uh Oh Oh Ok Ok Ah Oh Vai Ah Vai Boom Oh A posto Dovreste riuscire a farne buon uso Ah Sì Penso di sì Sta iniziando a piovere No Questo non fa più niente Va bene Vabbò Oh Oh Qua ci sono Allora Faccia pazza Teniamolo Teniamolo Prendi Teraglisci Qua c'è un'altra roba Cosa sei tu Molla calcio Ah E questo è il calcio Di Qua Oh Prendi Prendi C'è nient'altro Sembra di no Ah Allora Lo andiamo Eh Sì Torna In superficie Dove mi trovo Eh però Mo dove sono Usando la mappa L'indicatore È alle mie spalle Quindi Signori Si scende Diva di là Mi chiamo Allora Mi voglio chiamare Il Il cavallo Ok Mi voglio chiamare Il cavallo E andiamo Ok Allora È tutto così Vivace Durante il giorno È vero Questo è il posto Che ho bigliettato Prima Ok Spar Quello è uno sbarra spuma Costruito dall'azienda Per sfruttare la potenza Della melma Adesso non scorre più Così bene però Cosa È questo Ma guarda Una stazione Moto sprucco Poter fare Rifornimento Di scoppiarella In qualsiasi momento Ok Aaaaa Mi Imposto Per ieri Sforacchiali Tutti Ma che Ah Ehi 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 Ma Aspetta Vai Oh Oh Ok Ok Ehi Aspetta Un attimo Ma Porca Pieno di potenza Ok Qua Questi casi Però Oh Ah 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 Ok Eh Mi posso Per il chiero Adesso arriva Eh Che palle Eh Ah Ok Ah Ah Nooo Ah Ok Nooo Vai Ok Oh Vai Power Camideria Ah Nooo Ah 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 Ok Bene Quello è fatto Vai Ah Porca Perché poi c'è uno che spara Allora io Ah 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 Perché se riesco a Far fuori questo Ah Ah Ok Ora Non c'ho più nessun rompiscato alla distanza Qua Ok Nooo Uiii Ma niente Troppo presto io Ok Uiii Ok Dai che Ah Ok Oh Benissimo Prendo questo Oh E qua C'è essere un bottino Questo potrebbe essere l'inizio della fine Di tutto Cosa Chissà che confusione La prima volta che hai incontrato la tribù dei Necra Ah No Ti dici addio Va bene ma Qua Uuuu E questo cos'è? Secchio golf Corazza testa Eeeh Questo Questo posso equipaggiare Questo lo prendo Ah non posso equipaggiare A livello chiesto 12 Vabbè intanto lo prendo Questa è una cassaforte dei giorni andati Non si trovano spesso di questi tempi Ah beh Vediamo un po' Mh Le manopole debbono essere girate nell'ordine corretto Allora Ti restano poche mosse Ok E la scatola dinamite Leggendario Livello richiesto 30 Vabbè Questi sono cose che si prendono Me le prendo adesso Però Diciamo che Probabilmente qua ci sono arrivato molto prima di quanto dovessi Però Oh Intanto Ho preso Preso e messo in saccoccia Come si vuol dire Allora Continuiamo Continuiamo Nostro percorso Bottino superbo aspetta Perché Ok Perché dice che i bottini superbi qua ce ne sono due Io uno l'ho già preso E l'altro? Meglio un sole opaco di una notte eterna E l'altro dove dovrebbe essere? E l'altro dove dovrebbe essere? Scusa eh? Qua Qua C'è una cosa di cure E me lo prendo Vedo Vedo La cassaforte l'ho aperta Qua c'è un'altra roba Divisore Corazza Corazza Ah è un accessorio per la corazza Boh prendo Io prendo Io prendo Poi prendo Non Non Noto che il doppio salto non va più in alto Cioè è Diciamo mantiene la stessa altezza però per Una distanza maggiore Io voglio capire dove sarebbe Aspetta Aspetta Eccolo Oh A questo posso metterlo adesso? Volpestasi mimetico Probabilità ricirica 3% Eccolo 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 C'è più quella preguipaggia Copri il capolavoro Eccolo 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 Ma è questo? Ma questo c'ha Ok porca Calma Venta Va Va Oh Vai Porca Ah 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 Vai Ok 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 Io devo cercare di Oh Mmm Ok Ok Ah 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 E dai Perché non schiva Porca miseria Ah Adesso che Dai Vabbè E niente Ok C'è la colazzo qui Ah Ah Ok 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 A posto Interagisci Mi prendo Cassa glassa Prendi tutto Ok Qua ci sono componenti Questa non sarà un'escursioncina Eh Qua mi prendo questo Questo è un'altro Sembra di buon umore Per quanto sia già con una zampa nella fossa Ah bene In giro si parla del tuo senso di compassione Per cui confida nella tua natura altro E va bene Dai Ti chiede di metterti una zampa sulla coscienza E fare la cosa giusta Renderai conto delle tue azioni solo tramite il tuo conflitto interiore Ti aiuterò Va bene Ti ringrazia per la tua scelta Non puoi sentirti bene senza fare del bene E mi sembra giusto La luce scaccia l'oscurità Ora è tutto più luminoso Di quanta luce hai davvero bisogno Tutta la luce Tutta quanta Eh sì Potresti lasciare comunque un po' di spazio per l'oscurità Tutta la luce Oh prigionieri Oh Bene Intanto Mi prendo i premi Che Ah Pensavo fosse me Però prendo 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 E ci facciamo un giro qua A sto punto nei dintorni Faccio un giro a vedere se ci sono altre cose Una cosa sembra esserci E qui? No E dentro E dentro mi sa Quello è un batticorde sopravvissuto al tempo che fu È un apparato dove pigia attivi dei tasti per procurare sensazioni uditive Vediamo se funziona ancora Bisogna fare entrare in armonia le note per accordare il batticorde Ok Ah Ok Ti restano poche mosse Dovrai far delle bastare Va bene Un batticorde Musica per le orecchie Contenitore bio blob Bottino superbo Ah Ad essere tutto Da queste parti Aspetta Qua prendo Questo è addirittura luminoso Buttino Eh E tu sei leggendario Rivelo richiesto 15 Ok Intanto lo prendo Poi potrebbe servire Ah e qua c'è Ok Ok E i biopunti Si sommano Oh Area completata Aspetta Eh Qua ci sono delle cure Che fanno me le prendo Eh 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 Cavo se le prendo Ora Caro Cavallino Aggrappati bene e non mollare Ok Chiarato Non abbiamo fatto abbastanza oggi Eh Eh Però sinceramente Mi Dove so il tempo Con questo Con questo gioco Il tempo vola Vedi Vado per Dovevo soltanto Andare ad un avamposto E praticamente Ho fatto due puntate Un'ora soltanto Con tutto quello che ho Eccosi nello spumi pelago Dove l'orizzonte riposa Su superfici melmosi Eh Ok Dicevo Eh Dovevo soltanto Andare ad un posto Eh E mi sono ritrovato invece Mi sono invece ritrovato un'ana E mi sono ritrovato Trovare cose insomma Trovi incontri Drop cose Ottimo Tutto Molto ottimo Allora io direi a questo punto Ehm Forza colpo a corpo Perché la forza aumenta colpo aumenta anche con le armi Quindi onestamente Non saprei Piuttosto Quello che faccio io Piuttosto Io un altro po' Ho intelligenza o vitalità? E non c'è chi? No 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 Vitalità Sì sì Vitalità assolutamente Punti Psi Non so Poteri psionici Eh Tutti richiedono un po' Quindi Ancora non Ancora niente Ma sapete che c'è? Io direi che questo viaggio Lo proseguo nella prossima puntata Lo proseguo nella prossima puntata